Ragazzi, la vita è preziosa, sia la nostra che quella degli altri. Sapete come una partita? Bisogna giocarsela tutta e giocarsela bene. Non ci sono tempi supplementari. Se sbaglio la mia partita, la mia vita diventa inutile e posso anche rovinare la vita degli altri. Ecco perché bisogna essere campioni nella vita e sapersela giocare bene, prestare attenzione e dare il meglio di noi stessi. Per questo io vi dico, Picciò, a cura! Picciò